Il 4 e 5 maggio vi aspettiamo a Candelara per una festa dedicata alla primavera. Il sabato alle ore 16 si apre un mercatino con i prodotti tipici, nel quale troverete anche degli animaletti da cortile per la gioia dei vostri piccoli bambini e per loro anche dei giochi. I volontari della Proloco hanno predisposto anche un punto ristoro e domenica pranzo hanno pensato a un menù con i prodotti tipici di questo momento a un prezzo anticrisi di 20 euro. Tutte le sere ci saranno sketch e spettacoli teatrali, ci saranno band in concerto e il grande ballo in piazza e il DJ set. Manca eventi culturali, infatti il sabato alle ore 15.30 si riapre il Museo PAC dopo i lavori di restauro, alla presenza dell'Arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci. Alle ore 17 si apre nel centro di Candelara o Piccina d'Arte, uno spazio espositivo e laboratorio gestito dagli artisti Katia Fornaroli e Marsiglio Pianosi, ed infine alle 17.30 parte la quindicesima edizione di Candelara Arte con una mostra collettiva a cura di Macula e Spazio Diaz dedicato a un workshop fotografico. Infine domenica alle ore 10.30 si sono dati appuntamento a Candelara con i loro trattori il Comitato Orgoglio Agricolo della nostra provincia per parlare di promozione e valorizzazione del Made in Italy. Tutti questi appuntamenti sono ad ingresso gratuito, vi aspettiamo a Candelara.